Mi attendo che il nostro Presidente Giorgio Meloni dia le linee, di quelle che sono le attività, di quello che i Fratelli d'Italia dovrà fare nei prossimi mesi. Questo è il misto anche delle prossime europee, chiaramente. Assolutamente, è una competizione importante, quella delle elezioni europee, per cui ci dobbiamo preparare bene, dobbiamo consolidare quello che è il nostro consenso, per cui ci saranno molte cose che dobbiamo fare. Non ci sono problemi interni, giusto come si diceva prima, non ci sono problemi interni al partito, tra onde le vise, il Partito Unito arriva unito a queste elezioni. Assolutamente, unettissimo, anche perché non vedo quali potrebbero essere i problemi. Abbiamo un Presidente, Giorgio Meloni, che credo non ci sia nessun altro con le sue capacità, la sua visione, e quindi non credo che ci sia qualcuno che possa minare quello che è il consenso di Giorgio Meloni e di Fratelli d'Italia. Io sono assolutamente tranquilla. Ma guardi, la vedo benissimo perché è sempre stata una militante, è assolutamente una persona capace e quindi darà un contributo molto importante al partito. Grazie, grazie.